Il pensiero sempre, come nell'ultimo periodo, insomma, da due mesi a questa parte, è per Fabio. Insomma, non è stato facile prendere questo colpo, insomma, era un grande amico per noi. Insomma, ci ha toccato nel profondo. Riprendere a gareggiare non tanto per il pubblico, perché alla fine quando si scende in acqua si è sempre da soli. Però riprendere un po' l'abitudine a gareggiare non è facilissimo. E sono arrivato un po' troppo carico. Purtroppo non gareggiando io non riesco a rendermi conto che sono un atleta, esatto, che tende sempre a esagerare anche in allenamento. Per cui mi alleno, mi alleno, mi alleno e poi magari rivo troppo carico. Insomma, l'importante è di cominciare a gareggiare.